E' morto ieri sera a Roma, nella clinica Villa Pia, il regista Paolo Taviani, 92 anni dopo una breve malattia. Accanto a lui, la moglie Lina Nerli Taviani e i figli, Ermanno e Valentina. Lunedì 4 marzo si terrà la cerimonia laica funebre nella protomoteca del Campidoglio, dalle 10 alle 13. Nato a San Mignato l'8 novembre 1931, insieme al fratello Vittorio, scomparso nel 2018, scese a Roma dalla Toscana negli anni 50, dove divennero una delle coppie più affiatate del cinema. Con 20 film alle spalle, senza contare documentari, pubblicità e qualche corto, altrettanti premi maggiori, un leone d'oro, la carriera, i due fratelli hanno dimostrato che passione, costanza, rigore e fedeltà al reale possono essere premiati.